Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se è nuovi, lasciate il stack Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuorecino E oggi andiamo a vedere un altro breve video che vi spiega come riuscire a fare i trofei velocemente in questa mappa specifica Per fare questo vi porterò una clip della live che abbiamo portato ieri sera Quindi molti di quelli che hanno visto la live già sapranno il modo in cui si può riuscire a fare molto velocemente coppe in questa mappa Gli altri saranno tutti nuovi e spero che sarà utile a tutti questa strategia particolare e questo team indispensabile per fare appunto queste coppe Abbiamo fatto una partita perfetta, ottima, veramente ottima, proprio perché abbiamo seguito a perfezione quella strategia Poi giustamente le altre sono andate un po' qua e là perché dipende anche comunque dal team avversario Comunque funziona buona parte diciamo il 70% delle volte Infatti sono riuscito a recuperare tutte le coppe che avevo perso facendo la raffagemme da solo E sono tornato tranquillamente alle mie bellissime 6500 coppe Andiamo a vedere questo pezzettino della clip appunto della partita fatta insieme con quella tecnica Quanto costano le skin, regà? Non ho capito, costano 30, no? Se no io qualche skin me la compro, eh? Tipo Depocio mi piacerebbe qualcosa Ok, tutti appresso a Shiny, lasciate perdere quello lì Perfetto, proseguiamo Ci sta, ci sta Ah, ci hanno notato Ci hanno notato Ok, abbiamo fatto una killa, adesso back Uh, eccolo Oh le Vai, lontani, lontani, lontani Recuperiamo un attimo Tanto quel Frank si deve avvicinare per farci la cosa, eccolo A posto Vai, beccate un attimo che recuperiamo Ok, mi state già piacere, questo mi piace Ok, rimaniamo qua nel cespuglio Oppure facciamo il giro dall'altro lato, eccolo Perfetto, fregati Sbam Non c'è andata in faccia però, che c'è poca vita Ok, è andata bene perché c'avevamo un buco nero Però adesso becca Devi beccare le cattive Uh, mamma mia che fortuna Ok, ho ricaricato la final, becchiamo un attimo Recuperiamo Boom Eh, ci ha fregato perché ce l'aveva a carica pure lei Ok, adesso allontaniamoci, ricarichiamo Do sta andando? Tanto Shiny, così ci muori Becca verso di noi Vieni dietro al muretto, vai Così Adesso, boom 18 a 1 Perfetto Eccolo, c'è Frank qui, pialo, pialo Pialo male Boom 20 a 1 Questa è la cosa, così si fa Mi piacete, bella Boom 22 a 1 Questa è la tattica Se la giocate bene, devastiamo Perché la gente, come fate voi Vanno tutti divisi Invece noi andando uniti e poi spostandoci Gli creiamo disastro Gli creiamo problemi Adesso di nuovo via No, no, vieni qua Shiny Curiamoci Perfetto Ottimo E adesso Boom Su lui Ok Adesso dietro al cespuglio Vai Dietro, dietro, dietro Fammi ricarica Shiny Ok, adesso Vai Boom Sciottone 32 a 1 Boom 34 a 1 Vai Che muo' arrivano Possono far quello che pare Possono pure ammazzarci Non ci prega niente Abbiamo No vinto Stravinto Perfetto Eh, però c'ha Mastunnato Schifoso Come avete visto In quella tattica La cosa importante È andare di gruppo E spostarsi Spesso Cercare di evitare i colpi Non attaccare Finché non si arriva vicino A uno dei target Continuare a girare E quando si ha il black hole Cercare di tirare le final Contemporaneamente Di gruppo Così il black hole Li assorbe In una stessa zona E la botta di Shelly Li devasta E gli attacchi di Buller Avvicinati Li devastano E quindi li create anche un po' di confusione Perché a una certa Cercheranno di non andare di gruppo Per non farsi uccidere tutti insieme Quindi faranno l'effetto opposto Perché andranno da soli In giro E saranno dei target Molto più succulenti Da andare ad uccidere ragazzi Una strategia molto semplice Una squadra molto facile A portata di tutti E basta un pochino di attenzione E le coppe E i trofei Si fanno con un attimo ragazzi Ieri abbiamo fatto il recuperone Oggi ho fatto un recuperone Io in privato E sono tornato a 6.000 rotti Fino a che c'è stata questa mappa Quindi quando c'è Ricercati Prateria dei serpenti Fatela in questa maniera Sicuramente riuscirete a fare Molte più coppe Di quante facevate prima Va bene ragazzi Questo era il video Un video molto breve Arriviamo a 300 like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se i nuovi Lascia il hashtag Brawl Stars Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo In un prossimo video Grazie a tutti